Buonasera a tutti. Oggi è il 10 gennaio 2016. Siamo sempre qui alla CD Nautica Castor Ribs & Vot. Io sono sempre Diego Catalano e siamo sempre dentro alla nostra anteprima mondiale. Ora vi mostreremo la risposta alla domanda che tanti si faranno. Dopo varie prove con legno, cemento, mattone e acciaio in cacciavite, vi mostreremo che si può naturalmente anche lavare questo prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ve lo avevamo detto e ve lo ripetiamo. Il futuro della nautica da riporto, il futuro dell'assistenza nautica, il futuro del customer styling nautico sta cambiando ed è qui nelle nostre mani. Alla CD Nautica Castor Ribs & Vot. Io sono il titolare Diego Catalano e siamo in un'anteprima mondiale made in Italy a Casale Monferrato. Ciao a tutti. A presto.